Alle dieci del mattino A mezzogiorno meno dieci, Sam Merton scese dal tassi, tentando come al solito di aprire la portiera con una mano, di reggere la borsa con l'altra e contemporaneamente di arrivare al portafogli. Avendo a disposizione solo due mani, l'impresa gli riusciva difficile. Come sempre, spinse col ginocchio la portiera e ancora frugando in tasca in cerca del portafogli posò finalmente il piede sul marciapiede. Davanti a lui scorreva il traffico della Madison Avenue. Un camioncino rosso rallentò e ripartì con un sobbalzo appena il semaforo scattò al verde. Sul fianco, una scritta bianca avvertiva agli ignari che l'automezzo apparteneva a Levkovitz e figli, tessuti all'ingrosso. Levkovitz, si ripetè Merton nell'attimo in cui finalmente metteva le mani sul portafoglio. Lanciò un'occhiata al tassametro mentre si infilava alla borsa sotto braccio. Meglio cambiare cinque dollari se non voleva rischiare di rimanere senza spiccioli. «Tenete pure», disse ritirando il resto. «Grazie», rispose meccanicamente il tassista. Merton sistemò i tre biglietti nel portafoglio che si infilò in tasca, sollevò la borsa e affrontò la marea umana che scorreva sul marciapiede per raggiungere le porte di cristallo del palazzo. «Levkovitz», il nome gli tornò in mente a un tratto e Merton si fermò di colpo, facendo voltare un passante. «Scusate», murmurò Merton, dirigendosi verso l'entrata. «Levkovitz», eppure sul camioncino c'era scritto «Levkovitz». Dunque, perché gli veniva in mente «Levkovitz»? Anche se aveva studiato tedesco e leggeva il W come se fosse V, non capiva dove avesse pescato l'ic finale. «Levkovitz». Alzò le spalle, scacciando quel pensiero insistente. Guai se lasciava che si impadronisse del suo cervello. Decise di pensare ai casi suoi. Era venuto lì per incontrarsi con Naylor e firmare il contratto che, a 23 anni, gli avrebbe aperto le porte di una buona carriera, dandogli la possibilità di sposare, nel giro di due anni, Elizabeth e di diventare, nel giro di una decina, un rispettabile pater familias. Entrò con passo sicuro nell'atrio e si diresse agli ascensori. Passando, scorreva con la coda dell'occhio le diverse targhe. Era una sua vecchia abitudine cogliere al volo i nomi e i numeri delle targhe, senza rallentare il passo né tantomeno fermarsi. Merton pensava che il camminare tranquillo dava l'impressione di un uomo sicuro di sé, che sa quel che vuole, cosa molto importante in un lavoro in cui si è continuamente in contatto con la gente. La ditta che cercava era la Cooling Hat, specializzata in utensili da cucina. Posò un attimo gli occhi sulla M, sempre camminando, Mendel, Lusk, Lippert, casa editrice, due piani, Lafcovitz, Kubinet, eccola, 1024, decimo piano, perfetto. Poi, a un tratto, Merton si fermò, si voltò, come affascinato, riesaminò le targhe, fissandole sbalordito. Lafcovitz. Ma come diavolo si scriveva quel nome? La scritta era chiarissima. Lafcovitz. Henry J. 701. Scritto con la A. Ma era impossibile. Era assurdo. Assurdo? E perché? Scrollò bruscamente le ombre della mente. Maledizione. Cosa gli importava come si scriveva quel nome? Si voltò irritato, dirigendosi in fretta verso la porta dell'ascensore, che gli si chiuse in faccia proprio mentre lui arrivava. Un altro ascensore si aprì e Merton vi entrò immediatamente. Si passò la borsa sotto il braccio, assumendo un'aria risoluta, quella del giovane funzionario consapevole dei suoi compiti. Doveva fare una buona impressione su Alex Naylor, con cui finora aveva avuto soltanto contatti telefonici. Si cominciava a pensare a come si scriveva Lefcovitz o Lafcovitz. L'ascensore si arrestò silenziosamente a settimo piano ed entrò un giovane in maniche di camicia, con un mano, un vassoio con tre tazze di caffè e tre panini. Poi, nell'attimo in cui le porte si richiudevano, un vetro lucido con una scritta nera balenò nitidissima davanti agli occhi di Merton. 701 Henry J. Lefcovitz, importatore, e subito sparì inesorabilmente quando le porte dell'ascensore si accostarono. Merton si piegò in avanti, eccitato, e il suo primo impulso fu di dire «Ridiscendiamo al settimo». Ma c'era altra gente in ascensore e, dopotutto, non aveva motivo plausibile per farlo. Eppure si sentiva eccitato. Evidentemente la targa in basso era sbagliata e il nome si scriveva con la E e non con la A. Lefcovitz. No, troppo semplice. Decisamente c'era qualcosa che non andava. Scrollò il capo due volte. Ma cos'era che non andava? L'ascensore si fermò al decimo piano e Merton uscì. Alex Naylor, della Kubin Et, era un uomo di mezza età, piuttosto ben piantato, con una massa di capelli bianchi e un largo sorriso. Aveva le palme secche e ruvide e diede a Merton un'energica stretta di mano, posandogli la sinistra sulla spalla con un gesto di cordiale amicizia. Disse, due minuti e sono da voi. Che ne direste di scendere al nostro ristorante? Si mangia bene e il barista è in gamba. Vi va? Magnifico! Ottima idea! Merton pompava entusiasmo da qualche serbatoio segreto. Erano già passati dieci minuti e Merton aspettava ancora sentendosi un po' a disagio nell'ambiente a lui estraneo dell'ufficio. Esaminò la ricopertura delle seggiole, la cabina dove sedeva annoiata una giovane centralinista, i quadri alle pareti e finalmente diede un'occhiata alla rivista posata sul tavolo accanto a lui. Non doveva assolutamente pensare all'eff. E non ci pensò. Il ristorante era buono, o almeno lo sarebbe stato se Merton si fosse sentito meno sulle spine. Per fortuna non doveva preoccuparsi di tenere destra la conversazione, perché Naylor chiacchierava forte, esaminava la lista da intenditore, consigliava un determinato piatto, commentava lo stato del tempo e la caotica situazione del traffico. Di tanto in tanto Merton cercava di svegliarsi, di scuotersi da quello strano torpore che lo invadeva, ma ogni volta l'inquietudine ritornava. C'era qualcosa che non andava. Quel nome era sbagliato. Con disperata energia Merton lottò per liberarsi dall'idea ossessionante. Con loquacità improvvisa portò la conversazione sull'argomento produzione, ma fu un errore, perché il passaggio risultò troppo brusco e ingiustificato. Comunque la colazione era stata buona. Si era ormai alla frutta e Naylor rispose di buon grado. Merton non era soddisfatto di come erano andate finora le cose. Adesso però gli pareva che, sì, ecco, ci fosse una buona possibilità che una mano si posò sulla spalla di Naylor mentre un uomo passava dietro la sua sedia. Come stai, Alex? Naylor alzò gli occhi col solito sorriso cordiale. Buongiorno, Lefk. Come va? Non mi posso lamentare. Ci vediamo. E sparì in distanza. Merton non ascoltava più. Le ginocchia gli tremavano mentre si alzava a metà da tavola. Chi è? chiese. E la domanda suonò più perentoria di quel che avrebbe voluto. Chi? Lefk? Jerry Lefkowitz. Lo conoscete? Naylor fissò stupito il suo compagno. No. Come si scrive il suo nome? L-E-F-K-O-V-I-T-Z, credo. Perché? Con la V? Con l'F? Ah, no, c'è anche una V. Il viso di Naylor si era fatto scuro. Merton continuò. Qui nel palazzo c'è un Lefkowitz con la W. Così L-F-K-O-W-I-T-Z. E con ciò? All'ufficio 701. È la stessa persona? Jerry non lavora qui, ma dall'altra parte della strada. Non conosco il Lefkowitz di cui parlate. Sapete, il palazzo è vasto e non ricordo a mente tutte le targhe. Ma perché ve ne interessate tanto? Merton scrollò il capo e si rimise a sedere. Neppure lui sapeva esattamente cosa gli capitava e comunque non avrebbe potuto spiegarlo all'altro. Come fare a dirgli è tutto il giorno che i Lefkowitz mi perseguitano. Disse forte. Stavamo parlando di produzione? Naylor disse. Sì, come vi ho detto intendo mettermi in contatto con i vostri addetti alla produzione e vi farò sapere qualcosa. Senz'altro, disse Merton profondamente avvilito. Sapeva che Naylor non si sarebbe più fatto vivo e che tutto l'affare era andato in fumo. Tuttavia, più forte dell'avvilimento, persisteva la misteriosa inquietudine. Al diavolo Naylor. Merton ormai non desiderava altro che venirne a capo. Ma venire a capo di che? La domanda non era che un lieve sussurro, sempre più debole e lontano. La colazione volgeva alla fine. I due si erano salutati come due vecchi amici che si ritrovassero dopo una lunga assenza. Ora si separavano come due estranei. Eppure Merton provava solo un senso di sollievo. Si allontanò con il cuore intumulto e, insinuandosi tra un tavolino e l'altro, uscì fuori da quel palazzo stregato, nella strada anch'essa stregata. Stregata? Ma era la Madison Avenue, a luna e trenta di pomeriggio, formicolante di migliaia di uomini e donne in fila interminabile. Eppure Merton si sentiva come perseguitato. Stringendo la borsa sotto braccio, si diresse disperatamente a nord. In un ultimo sprazzo di buonsenso ricordò che aveva un appuntamento alle tre, alla trentaseiesima strada. Se ne infischiò e continuò a procedere in direzione nord. Alla cinquantaquattresima strada attraversò la Madison Avenue, dirigendosi a ovest, e a un tratto, inconsciamente, si fermò, alzando gli occhi. Tre piani più su, a una finestra, una targa diceva A.S. Lefkovic, ragioniere. Stavolta la parola era scritta con una F e una W, ma finiva in Itch. Era la prima volta che vedeva l'Itch. Svoltò nella quinta strada, correndo per le vie irreali di una città irreale, ansante, dando la caccia a qualcosa di ignoto, mentre la folla attorno cominciava a diradarsi. A una finestra del piano terreno una targa, M. R. Lefkovic. Poi un semicerchio di lettere dorate nella vetrina di un pasticcere. Jacob Lefkovic. Soltanto metà del nome. Ma chissà perché deve disturbarmi con mezzo nome. Ormai le strade erano deserte, e nel vuoto danzavano tutti quei Lefkovic, Lefkovic, Lefkovic. Merten si accorse di essere arrivato al grande parco, che gli si parò innanzi con la sua distesa verde e immota. Svoltò a ovest. Con la coda dell'occhio, scorse un pezzo di giornale che svolazzava, unico segno di vita in quel mondo morto. Si voltò, raccolse il giornale, senza rallentare il passo. Era una mezza pagina di un foglio in ebraico. Merten non sapeva leggere l'ebraico, neppure se le lettere fossero state più nitide, ma in centro pagina spiccava una parola chiarissima, a lettere nere. Lefkovic. Lefkovic. Ripetendola, Merten fece cadere l'accento sulla seconda sillaba. Lefkovic. Getto via il pezzo di giornale e si inoltrò nel parco deserto. Gli alberi erano immobili. Le foglie penzolavano come sospese ai rami. Il sole incombeva su nel cielo, senza dare calore. Merten adesso correva, ma ai suoi piedi non sollevavano polvere e i ciuffi d'erba non si piegavano sotto il peso. Su una panchina sedeva un vecchio, l'unica creatura vivente in quel parco desolato. Portava un berretto nero e la visiera gli ombreggiava gli occhi. Da sotto al berretto spuntavano ciuffi di capelli grigi e la barba brizzolata arrivava al primo bottone della giacca. Indossava dei vecchi pantaloni logori e una cresce di tela era avvolta attorno alle scarpe fruste e sformate. Merten si fermò, respirava a fatica e riuscì a stento a articolare una parola. Lefkovic. Il vecchio si alzò lentamente aguzzando gli occhi. Merten, sospirò. Samuel Merten, sei venuto finalmente. Le parole suonavano strane perché sotto la pronuncia inglese Merten avvertiva una sfumatura straniera. Le mani ruvide, cordonate di vene e del vecchio, si tesero e subito si ritrassero come spaventate. Ti ho cercato tanto, ma ci sono troppi Martin, Martin, Morton e Merten in questa immensa città. Mi sono seduto un momento qui perché c'era del verde attorno, ma un momento solo perché non volevo commettere peccato perdendo la fede e finalmente sei arrivato. Sono io, disse Merten, e tu sei Finias Levkovic. Perché siamo qui? Io sono Finias Ben Geuda, chiamato col nome di Levkovic e siamo qui in virtù delle mie preghiere, spiegò quietamente il vecchio. Quando già ero vecchio, la mia unica figlia, Lea, la figlia della mia vecchiezza, partì per l'America con suo marito e i miei figli morirono e mia moglie Sara da tempo era già morta e io rimasi solo e venne il momento anche per me di morire. Ma io non avevo più visto Lea da quando era partita per il lontano paese e la mia anima anelava a vedere i figli nati da lei, i figli della mia stirpe, i figli in cui la mia anima sarebbe ancora rivissuta. Parlava con voce ferma e l'eco di un linguaggio antico risuonava nelle sue parole. E le mie preghiere furono esaudite e mi furono concesse due ore per vedere il primo genito della mia stirpe, nato in una nuova terra e in tempi nuovi. Figlio della figlia della figlia di mia figlia, ti ho finalmente trovato tra lo splendore di questa città. Ma perché mi hai tanto cercato? Perché provavo gioia nella speranza di ritrovarti, figlio mio, disse il vecchio raggiante, e provo gioia nell'averti trovato. Mi sono state concesse due ore per cercarti e ora tu sei qui. La voce era antica, dolce. Sei contento, figlio mio? Sono contento, padre, ora che ti ho trovato, disse Merten cadendo in ginocchio. Dammi la tua benedizione, padre, perché mi accompagni in tutti i giorni della mia vita e accompagni con me la ragazza che prenderò in moglie e i figli che allieteranno la nostra stirpe. La mano del vegliardo si posò sul capo del giovane e la voce sussurrò appena le parole. Merten si rialzò. Gli occhi del vecchio si fissarono nei suoi. «Torno tra i miei padri con l'animo in pace, figlio mio», disse il vecchio, e Merten si ritrovò solo nel parco deserto. In un attimo le cose si rianimarono, la brezza riprese a soffiare, il sole a scaldare, e tutto il resto svanì. A mezzogiorno meno dieci, Sam Merten tentava di uscire dal tassi, lottando vanamente per raggiungere il portafogli. Un camioncino rosso rallentò, riprese la corsa. La bianca scritta laterale diceva «Levkovitz e figli, tessuti all'ingrosso». Ma Merten non se ne accorse.